Allora, ve ne approfitto prima di ringraziare a tutti di essere presenti con noi stasera. Stasera è il secondo giorno di incontri e di dibattito con i vari protagonisti della scuola, insegnanti, scuole, ma non solo, tutti gli attori del terzo settore e tutte le nuove iniziative in campo. Presenterò brevemente stasera, no, li presenteremo infatti in corso di opera, ma intanto vi presento Marie Madeleine di Bad Chicken, Chiara Burberry di Ridoc, Linda Talone di Valora D e di Inspiring Girls e in attesa di arrivo Diana De Marchi che è stata chiamata dal sottosegretario a Mendola per un intervento proprio per la giornata delle donne. Dunque, spegnete i microfoni e andiamo avanti. Allora, stasera vogliamo parlare di parità di genere, vogliamo parlare del fatto che la disparità di genere può essere ancora un fattore negativo e ancora un fattore negativo di crescita per le società, per la società italiana e in generale. Sapete che la parità di genere è stata messa all'agenda per lo sviluppo sostenibile di tutti i paesi dell'ONU. Da quando è stato messo, inserito nel settembre 2015, l'obiettivo era di avere la parità di genere e l'igualeanza per tutte le donne e ragazze. Stasera siamo insieme per capire a che punto siamo in Italia, qual è la situazione, quali sono i protagonisti, quali sono le azioni che sono state implementate sia dalle ente del terzo settore che anche gli attori del mondo istituzionale. Per prima darò la parola a Mari Madeleine Gianni che è collegata con noi stasera dal Canada, dunque la ringrazio davvero di essere svegliata un po' prima e ci dovrà lasciare alle 19. Dunque approfittiamo della sua presenza per farci raccontare il progetto che ha ideato, che ha lanciato in Italia e che scommette sull'agire già da subito nelle scuole, nella scuola primaria, con un progetto Bad Chicken che interviene nelle scuole per i bambini e bambine da 6 a 10 anni. Mari Madeleine, forse ci vuoi raccontare com'è nato questo progetto? Sì, volentieri, innanzitutto grazie per l'invito e buonasera a tutte e tutti. Questo progetto è nato sette anni fa da un'iniziativa personale. Sono stata per un lungo periodo dirigente nel settore commerciale in varie multinazionali e un giorno ho pensato che era venuto il momento di condividere la fortuna che avevo avuto e l'esperienza acquisita anche in azienda, ma anche in vari soggiorni e lunghi anche all'estero e metterla a fattore comune, partendo da un'idea un po' particolare che era quella sulla tematica degli stereotipi e dei pregiudizi legati al genere, di fare un lavoro di investimento sul potenziale, quindi di rovesciare un po' il solito modo di operare e in generale si ha tendenza di essere molto focalizzati su un approccio di problem solving, in particolare nel settore, nel terzo settore. Invece l'idea dietro By Chicken è di investire sul potenziale di ciascuno di noi, partendo dalle bambine, bambine degli elementari, quindi il nostro cuore sono terza, quarta, quinta elementare, ma adattiamo anche i nostri percorsi alle bambine e ai bambini dai sei anni in su, proprio per cercare di accompagnarli nella scoperta del loro potenziale, dei loro talenti, del loro interesse, della loro passione, chiaramente al di là di quello che propone la società, al di là dei condizionamenti che noi adulti, famiglie, insegnanti, genitori, tutti noi veicoliamo. Quindi così è nato questo progetto che ha preso forma in un ento del terzo settore, By Chicken, che quindi da sette anni ad oggi propone in Italia dei percorsi nelle scuole, nei luoghi di aggregazione della gioventù, che possono essere biblioteche, musei, spazi comunali, e in questo abbiamo sviluppato mano a mano delle formule progettuali sulle quali ci basiamo per dare più impatto al nostro operato e assicurare che le attività che svolgiamo e che proponiamo portino un reale cambiamento. Quindi, giusto per aggiungere, perché è un punto importante qua, tutti i nostri progetti, tutti i nostri percorsi vengono misurati. La misura per noi è fondamentale, perché è quella che ci dà un'indicazione dell'impatto che hanno le nostre proposte progettuali, i nostri percorsi in questi spazi. Allora, Maria e Madlena, ti vorrei proprio interrogare su questo. Al di là del fatto che sono stata in prima persona a seguire un laboratorio che abbiamo fatto insieme la settimana scorsa, sono molto curiosa dei risultati dei progetti, perché, e vorrei metterlo anche sul tavolo e sul dibattito di stasera, a me sembra che le bambine e i bambini a quest'età non hanno problemi di parità di genere. I problemi di parità di genere sono minimi. C'è un'apertura, una libertà, una curiosità verso l'altro che fa che il bambino o la bambina, alla fine, l'altro lo considera come un altro compagno di gioco e non c'è questo divario di genere tra maschio e femmine. È quasi l'opposto. Le bambine sono fortemente protagoniste, sono fortemente convinte delle loro capacità e dunque sono molto curiosa di avere i risultati del lavoro fatto da voi perché è quello che dovremmo anche esplorare con gli altri protagonista perché penso che quasi quasi ho dei dubbi che la parità di genere si crea piano piano tra qualcosa che viene comunque una cultura che si porta sulle spalle piano piano dalle ragazzine. Cosa ne pensi tu? Concordo ed è per quello che davo un particolare risalto all'approccio che abbiamo. Perché questo target? Perché non essendo in un approccio di problem solving abbiamo scelto proprio l'età in cui riteniamo che ci sia maggior disponibilità e maggiore apertura al cambiamento un'età in cui come correttamente lo dicevi probabilmente ancora se non tutte tante strade sono aperte, tanti scenari sono disponibili e dopo, e lo vediamo anche con i dati che abbiamo raccolti negli anni che si cristallizza tra virgolette lo stereotipo lo stereotipo c'è dalla nascita, c'è il fiocco rosa, il fiocco blu la bambina con la bambola, il bambino con la macchinina, eccetera però la cristallizzazione di questo stereotipo avviene nel tempo e probabilmente andando su un target giovane che tra l'altro è un target atipico perché se uno ci pensa ci si concentra molto sull'adolescente si concentra molto ancora di più su l'universitario o comunque il giovane adulto la giovane adulta pochissimo su quella fascia delle scuole elementari ed è una fascia invece interessantissima perché come lo notavi le differenze percepite dalle stesse bambine e bambini non sono così forti, ci sono, noi vediamo nei dati raccolti che però circa l'ottanta per cento dei partecipanti quindi bambine e bambini nei percorsi miste bambine nei percorsi che sono formule diverse dove ci sono soltanto delle bambine convolte l'ottanta per cento ritiene che non c'è differenza nel trattamento a scuola tra una bambina o un bambino e questo è un dato estremamente interessante è quello sul quale ci appoggiamo per cercare di potenziare questi scenari e queste possibilità che sono ancora tutte aperte quasi quasi direi che la materia prima è ancora vergine di stereotipi e dunque questo è un punto che mi piacerebbe anche dibattere con gli altri protagonisti stasera è come se la parte in atta e la parte acquisita di stereotipi e delle etichette e dunque la difficoltà è proprio lì di capire quanto le bambine quanto le possiamo liberare almeno della parte acquisita che cresce negli anni vorrei visto che abbiamo ancora un po' di tempo con te tu che tu da due anni che sei in canada per curiosità pensi che ci sia anche lì la stessa il stesso carico culturale sulle spalle delle bambine e dei bambini allora faccio una premessa sono qua da poco perché due anni per percepire questo questo tipo di differenze è forse troppo poco quello che potrei dire però è che in generale noto nella società canadese penso che sia comune in generale al nord america e che c'è un'attenzione più bassa data all'apparenza all'estetica che passa anche per esempio esatto dall'estetica nel senso che per dirvela tutta le persone vanno in giro vestite in un modo diverso rispetto all'Italia e questa è una cosa che si nota subito arrivando arrivando qua questo ha un lato estremamente positivo che è che c'è molta più attenzione a quello che c'è dentro alla sostanza dell'individuo rispetto all'apparenza alla forma come sono vestito se ho i vestiti firmati eccetera se sono all'ultima moda o invece no e quindi e quindi penso che questo sia un fenomeno interessante detto questo però se uno guardi i dati in particolare sulle stem il Canada alla fine ha delle proporzioni forse un po' migliori tra virgolette rispetto all'Italia ma abbiamo comunque un tema anche qua cioè se le ragazze e le donne rappresentano circa il 25% della popolazione attiva nei mestieri STEM sono circa 30-35% delle laureate STEM con tra l'altro un tasso di abbandono e di cambio di percorso più importanti rispetto ai maschi sempre per i percorsi STEM quindi hanno tendenza a iniziare magari nelle STEM e poi però passare a percorsi di studio più umanistici quindi il tema di fondo c'è però come dicevo c'è questo come dire tendenza interessante essere focalizzati forse meno sulla forma più sulla sostanza in generale dell'individuo e questo è una penso una tendenza interessante Dici che sarebbe un criterio di emancipazione della donna che sarebbe un po' più libera dei stereotipi anche di femminilità e no? non so non saprei dire in termini di impatto che cosa significa quello che vedo è che c'è meno c'è meno attenzione all'aspetto esterno della della persona in generale quindi hai ragione probabilmente questo è una una charge mentale adesso mi viene in francese ma comunque un carico mentale aggiuntivo che qua non c'è cioè io potrei andare vestita fuori non dico in pigiama ma quasi nessuno si scandalizza nessuno mi guardo per strada e e finisce lì è una forma di libertà ecco se ho voglia di farlo posso farlo quindi è una costrizione un'eventuale costrizione che viene meno no ma è interessante perché ci riporta proprio all'etichetta tra no? e che sicuramente è forte in un paese come l'Italia o ai paesi più tradizionali europei su no? su cosa e come deve essere una donna e allora ma i Madlen rimani con noi quanto voglia mi farebbe piacere se rimani un po' più a lungo e riesci anche a seguire e a partecipare e fare anche qualche domanda future ehm io mi mi attacco quello che hai detto su le STEM perché sicuramente lì c'è ehm c'è un punto fondamentale sull'emancipazione delle donne e allora varie cose sono a mettere in campo il tasso di occupazione femminile in Italia è uno dei più bassi no? in Europa e questo è stato segnalato di qualsiasi eh inchiesta e ricerca sul il fenomeno della disparità di genere ehm proprio anche il presidente Draghi l'aveva segnalato subito nel suo discorso di apertura eh che il divaro di genere nel tasso di recuperazione in Italia rimane tra il più eh il divario il più alto in Europa circa diciotto punti eh su una media di in Europa di dieci cosa vuole dire? Vuole dire che eh in Italia eh il cinquantaquattro virgola cinque per cento delle donne lavora eh contro il settantatré cinque eh dei maschi eh per un modello in Europa dove la media è sessantadue per cento soprattutto l'importante il punto importante che in questi ultimi due anni è calato no? Il tasso di partecipazione delle donne al mondo lavorativo ehm un paese vicino eh al nostro la Francia sono più di sessantasette per cento di donne che lavorano dunque lì c'è sicuramente un problema di fondo e eh al di là del fatto eh eh che abbiamo iniziato con te perché ci devi lasciare mi veramente mi interessava iniziare con te perché con questo progetto sui sei dieci anni che ci fa vedere che la disparità ancora non è non esiste veramente invece si crea dopo lo vediamo nel mondo del lavoro allora vorrei con Chiara Borberi affrontare questa tematica dove quando dove nasce questo divario eh già nei primi anni del sistema scolastico eh non lo sentiamo tanto come l'abbiamo visto con il progetto non ci sono queste differenze da da portare poi a questa differenza che invece nel mondo lavorativo è fortemente ehm sedimentato nella società italiana anche se se vogliamo essere positivi da questi quindici vent'anni le donne italiane che lavorano sono state in crescita dunque c'è un fermo dal duemila e diciotto eh ma comunque siamo malapena alla una donna un po' più di una donna su due che lavora dunque lì c'è un tema veramente fondamentale che potremmo vorrei esplorare Chiara anche con te eh non ovviamente c'è un fattore culturale sicuramente e ne possiamo forse parlare ma ehm eh ancora ci ci chiediamo perché la donna italiana eh si riesce riesce perché non penso che non vuole riesce poco a investire sul suo percorso professionale Sì buonasera sì buonasera a tutte e tutti ehm ma io sai penso veramente che il tema sia appunto un grande tema culturale che ci ci portiamo dietro ehm da insomma da decenni e che invece negli ultimi dieci anni proprio stiamo iniziando a combattere sistematicamente allora eh oggi uno un grande giornale titolava oggi il giorno della insomma l'otto marzo quindi stiamo proprio parlando eh alla fine di questa giornata in cui tutti no a livello di società civile ci siamo un po' espressi su questo argomento bene un grande giornale titolava mancano donne giovani e laureati e questa è una grande sintesi no di un di un paese che fa veramente fatica a eh accettare le diversità a ad approfittare delle proprie energie migliori no allora io appunto voglio essere un po' positiva nel senso che eh mi piace anche vedere le cose un po' in prospettiva come stanno cambiando eh non fermiamoci agli ultimi due anni in cui veramente la pandemia ha fatto disastri e lo sappiamo no? Tante donne si sono sono si sono sentite costrette a licenziarsi addirittura proprio per hanno perso o hanno dovuto abbandonare il lavoro per temi di cura e problemi di tutti i tipi però guardiamo ancora un po' più in prospettiva gli ultimi dieci anni no? Gli ultimi dieci anni per esempio vedono eh eh a livello italiano eh la l'attuazione di una grande normativa perché ahimè la cultura si guida e si cambia anche con le normative sono dei forcing device necessari eh e parlo appunto della legge Golfo Mosca che nel 2011 ha eh parlato appunto di garantire il trenta del tema del 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 genere quindi di garantire il trenta per cento dei posti al genere meno rappresentato guarda caso il femminile eh meglio negli organismi di eh amministrazione e controllo e società quotate bene questo ha portato a un sostanziale cambio di passo non solo nei numeri no? Più del trentasette per cento ormai eh di donne sono rappresentate nei board eh ma anche di qualità dei board perché ovviamente la diversità porta eh non soltanto forma ma anche sostanza no? Nel modo di ehm di realizzarsi di eh per esempio dei processi decisionali tipicamente brutta notizia amministratori delegati amministratrici delegati e presidentesse solo rispettivamente due quattro per cento quindi ancora questo soffitto di cristallo che resta lì bello solido adesso vediamo no? La normativa è stata rinnovata la percentuale portata al quaranta per cento eh portata anche la normativa le linee guida nel nell'autoregolamentazione delle società quotate quindi sicuramente anche come dire le quotate si adatteranno però c'è sempre un tema ma poi chi guida chi governa chi decide ecco questo è il grande tema io personalmente penso che le sensibilità ISG quindi dei temi environmental social and governance faranno una grandissima differenza gli investitori saranno sempre più attivi anche nel chiedere diversità come sinonimo di valore ehm sì probabilmente dovremmo aspettare ancora cinque dieci anni eh purtroppo insomma non sarà un cambiamento subitaneo no? Insomma qual è il tempo giusto del cambiamento no? È sempre ieri è sempre forse cinquant'anni fa eh però eh i tempi sono necessari per un cambio di normativa e eh un come dire una situazione in cui eh anche gli uomini si abituino ad avere no? Domande fatte da donne eh piuttosto che decisioni prese mediando posizioni diverse ecco non come le avevano pensate ma no? Mediando eh una discussione una collaborazione una cooperazione con punti di vista diversi eh questo secondo me è un è un bello spaccato cioè è è una cosa veramente bella di cui andare fieri a livello italiano perché dieci anni fa non potevamo immaginarcelo diciamo la verità no? Erano tutti eh come dire erano completamente maschili i board eh e sono gli apici diciamo delle delle decisionali delle grandi aziende e a questo punto dobbiamo lavorare sul management sulla struttura manageriale io ricordo sempre che il gender il il gender gap nelle ritribuzioni è enorme la statistica dice diciassette per cento ma noi sappiamo che le per le posizioni apicali raggiunge anche il trenta trentacinque per cento direi che è anche una vergogna nazionale di nuovo tema diffuso in tantissimi paesi ma di nuovo adesso c'è una legge sulla parità salariale no? E quindi sicuramente di nuovo la normativa guiderà il cambio e accelererà il cambio culturale. Eh questo è molto interessante perché infatti in effetti credo che sia da gennaio duemila ventidue no? Che c'è questa nuova legge su la l'obbligo di parità di stipendi e che è una legge che anche lì i i nostri vicini di cuore francesi l'hanno già adottato l'anno scorso da e e anche hanno e hanno anche spinto anche loro la presenza ancora di più eh non solo nei board ma anche un obbligo eh di un minimo una quota minima di dirigenti eh perché in realtà perché lo lo sai anche tu molto bene fino a un certo momento ci arriva e poi l'ultimo scalo c'è una no? Si fermano le donne e e e sappiamo che la 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 differenza di stipendio è un grande freno eh alla all'emancipazione anche lì no? Da parte di di tutte le donne che lavorano ehm in particolare perché eh che sia anche una donna eh singole o altre poi la carica eh dei costi della vita fa che la donna è spesso è quello che affronta anche eh tanti costi in particolare a livello educativo e dunque se è una donna singola deve pagare eh la il nido e tutte le altre cose eh no? Dunque ovviamente la raggiungere questo famoso pay gender eh gap è sicuramente uno degli obiettivi no? D'apporarsi per i prossimi anni e ma parlando anche con te e poi ehm mi è piaciuto molto mi sono riguardato il tuo Ted del duemila e quindici sulle stemma e per tutti anche per le ragazze esatto e vorrei non ho presentato bene Chiara Chiara si si definisce ribella e maleducata anche a Milano in realtà maleducata secondo me è stata benissimo educata come dice lei anche con dei studi classici dunque ehm Chiara è e secondo me eh presenta benissimo che cosa può essere una donna moderna di oggi perché non si ferma un lavoro non si ferma in ruolo ma abbraccia a tre sessanta gradi le opportunità che gli presenta la vita e nel suo Ted del duemila e quindici di eh cerca di eh sfacciare i miti i falsi miti no sul mondo delle stemma perché dico questo perché il mondo dei stemma interessante perché è il mondo che spinge a livello di posti di lavoro no eh si si dice che nel tra venti e ventiquattro un milione e cinque posti di lavoro saranno creati in questo campo sono i mestieri stem sono i mestieri che dove i stipendi sono più alti dunque c'è una vera opportunità di crescita per il paese e anche per le ragazze ma siamo ancora alle porte ancora le le e e malgrado quello che volevo anche dire malgrado i buoni risultati scolastici delle ragazze malgrado il fatto che le ragazze raggiungono eh finiscono contro i maschi se non di più il percorso universitario dunque guardiamo questi falsi miti e e vediamo cosa ci impedisce e cosa impedisce ancora alle ragazze a a arrivarci con te con il tuo sguardo certo beh donne stem no eh io penso che sia proprio eh noi noi ragazze siamo un po' schiacciate dagli stereotipi no perché poi il tema vero è che eh quando si parla di matematica si parla di eh una bestia nera ehm lontana fredda lontana dalla realtà fredda formale adatta solo ai talenti naturali adesso a me eh guarda ho letto recentemente eh anzi ho riletto recentemente un bel un bel libro di Chiara Valerio il titolo è la matematica e politica ve lo ve lo consiglio una lettura meravigliosa proprio un open minder ehm dove effettivamente anche lei dice in realtà eh e aggiungo in realtà nasciamo tutti con un senso della numerosità noi umani nasciamo con un senso della numerosità e nel nostro DNA nella nostra genetica il bambino di quattro mesi eh capisce le quantità le presenze e le assenze riconosce i suoni la presenza e l'assenza di suoni gli umani ehm sono in grado di contare ehm autonomamente a uno sguardo a gruppo di tre o di quattro cioè abbiamo veramente i numeri dentro di noi e e quindi cosa succede con la matematica? Cioè cosa succede con la formalizzazione del numero? Il problema come appunto troverete in questo libro ma tutti i libri diciamo che parlano di questo argomento lo lo ribadiscono costantemente il problema è come ce le insegnano a scuola è tutto lì il problema perché ce le insegnano lontana dalla realtà eh ci dicono che è per talenti naturali geni solitari ci dicono che è legata alla velocità ma sono tutte fandoni una cosa cioè veramente ci ci raccontano le storie sbagliate sulla matematica eh a me fa sempre piacere ricordare eh Maria Mirzacani l'unica donna che finora ha vinto la medaglia Fields che è una delle grandi è il Nobel della matematica detto diciamo in parole povere nel duemilaquattordici vince la medaglia e lei eh in una bellissima intervista da Guardian dice quello bravo in matematica era mio fratello cioè ma vi rendete conto cosa dice una cosa incredibile dice di se stessa di essere una pensatrice lenta quindi la velocità con la matematica non ha nulla che fare magari ce l'ha col calcolo coi numeri che è una piccola parte della matematica ma la matematica è conoscenza è strutturare un pensiero e studiare le relazioni tra le cose le persone gli oggetti e le situazioni quindi tutti i matematici sono pensatori lenti la matematica è molto più vicina alla filosofia che non alle tabelline che ci insegnano di nuovo a scuola o alle dimostrazioni studiate a memoria e l'altra cosa bellissima è che la matematica è una grande forma d'arte no la figlia di Maria Mirzacani ricorda la mamma che disegnava su grandi fogli bianchi sul tappeto in salone no e lei è una studiava la geometria e quindi lei era una disegnava disegnava le le sue idee quindi una una grande forma d'arte no matematica come conoscenza quindi ci hanno raccontato la storia sbagliata sulla matematica ci hanno derubato anche di una grande bellezza perché non è vero che si nasce col pallone pallino per la matematica il pallino te lo te lo crei con tanto studio con tanto allenamento con tanta curiosità e passione esattamente come per tutte le altre materie solo che la matematica ci pensate se si è non si è bravi in matematica ci si sente stupidi non succede con nessun'altra materia cioè in tutte le altre materie sì magari è la prof che non ama il mio stile io scrivo poco vorrebbe dei temi più lunghi non ho una grande memoria allora storia mi piace poco no invece no prendi un brutto voto in matematica sono stupido non sono portato non ce la posso fare è uno spreco di talenti enorme questo è un webinar che si intitola educare al futuro e io ricordo che educare viene dal verbo latino educere quindi tirare fuori il meglio no non istruire dico sempre che il ministero dovrebbe cambiare il nome non ministro dell'istruzione ma ministro dell'educazione tirar fuori di nuovo questa radice meravigliosa latina che è proprio dall'idea di dare le opportunità ai talenti di emergere un po quello che dobbiamo fare con le donne no Oscar Wilde diceva date una l'adeguata opportunità le donne faranno cose meravigliose no daranno il meglio di loro stesse ecco no no ma io sono sono affascinata di questo punto tuo perché la mia domanda seguente è come cambiare il racconto come cambiare questa storia che ci raccontiamo da anni a scuola solo anche conosci anche i dati meglio di me ma tu lo sai benissimo che solo allora tutte le i cifre che ci scambiamo vengono dal MIUR vengono dell'inchiesta Save the Children vengono dal rapporto Deloitte sui giovani ragazzi comunque solo 21 per cento delle ragazze su cento studenze studentezze italiane sceglie le materie stemma dunque eh siamo lì eh e e vorrei ritrovare il dato dei maschi ma siamo quasi opposto no il trentasette eh e dunque impotizziamo che sia la stessa fonte eh esatto dunque eh e poi ti 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 dico anche un'altra cosa secondo l'Istituto Europeo per l'Ugolanzia di Genere ehm la presenza delle donne in ambetti lavorati STEM contribuire a determinare un aumento del PIL eh eh pro capita nell'Unione Europeo quasi del due per cento già dal duemila e trenta e dal sei al nove virgola sei per cento entro il duemila e cinquanta dunque il valore aggiuntivo delle donne eh sarebbe fondamentale alla crescita ehm allora come spingere le ragazze verso queste carriere e come eh soprattutto come dici tu cambiare la musica no perché eh è vero come ce lo raccontano e perché anche in realtà ti farei una domanda forse un po' perché questa musica funziona sui maschi e non sulle ragazze? Ah questo è un buon punto sì è perché allora eh iniziamo da questo perché eh i ragazzi tendono a essere eh più veloci nel rispondere un po' a provarci no? Cioè la la ragazzi parliamo sempre di media e non parliamo di casi specifici però tipicamente le ragazze pensano due volte prima di rispondere sono un po' più timide e dato che la velocità e la prontezza è sinonimo di bravura e intelligenza questo a livello diciamo diciamo di sensibilità ecco che scatta come dire un'autopercezione positiva per i ragazzi che dicono ma io ingegneria ah io ce la posso fare e invece una preoccupazione per le ragazze che cominciano a pensare ma forse è veramente troppo difficile il problema vero è che non è eh come dire l'orientamento universitario il vero problema è il passaggio medie scuola superiore scuola secondaria di secondo grado cioè il in Italia eh le studentesse sono la maggioranza negli iscritti in tutti gli indirizzi tranne liceo scientifico cioè vanno a scegliere eh il linguistico il classico nel settanta per cento l'artistico magari appunto il il liceo eh scienze umane eh ma lo scientifico no e già lì hai come dire hai fatto la grande scelta che che il motivo per cui giustamente bet she can lavora tanto già alla primaria noi siamo partiti come redoc nel nel duemilaquattordici lavorando sulla matematica del del liceo eh era la nostra una reazione ai risultati dei test test pisa oxe sulle competenze matematiche dei ragazzi italiani no e quindi dicevamo se il l'Italia le competenze matematiche dei ragazzi e delle ragazze italiane dei quindicenni perché test pisa oxe vengono eh vengono ehm così ehm raccolti i dati dei dei quindicenni sono sotto media oxe quindi sotto il trentacinquesimo posto anche lo sviluppo tecnologico del paese la ricchezza del paese poi scenderà sotto livello oxe nel momento in cui questi ragazzi e ragazze entreranno nel mondo del lavoro perché appunto il diciamo il futuro è guidato no è trainato dalla tecnologia quindi dalle materie STEM quindi dalla matematica e però velocemente ci siamo trascinati anche dalle richieste delle scuole siamo scesi alle scuole medie quindi secondaria di primo grado e poi alla primaria perché è da è da piccoli che partono eh anche come dire l'autostima sufficiente per dire l'errore è parte del mio processo di apprendimento se io cado dalla bicicletta i miei genitori non me la tolgono dicendo non sei portato ehm di andare in gioca col pallone se cado dalla bicicletta mi dicono dai coraggio riprova ecco perché se sono lento nelle tabelline pensano che io non sia portato per la matematica posto che le tabelline a memoria ma chissà perché magari invece c'è una bella tavola pitagorica matriciale sì che ti dà la logica e forse quella più utile da studiare da imparare da utilizzare quindi questo è il tema dei maschi secondo me questo è molto molto semplicisticamente anche per quanto riguarda le ragazze cosa dobbiamo fare di nuovo ehm duemiladodici eh risultati dei test Pisaox in cui il problema si eh iniziava a percepire io mi ricordo noi abbiamo preso il primo il nostro blog come nel novembre duemiladodici proprio con un articolo cos'è STEM e il secondo articolo cosa vuol dire STEM con arte STEM cioè una roba sembravo pazza proprio per i tempi duemilaquindici buona scuola eh il documento la legge sulla buona scuola parlava di materie STEM di inglese di coding quindi duemilaquindici ieri l'altro ieri voglio dire a noi sembra cioè è troppo lento il cambiamento sicuramente però c'è rispetto a un decennio due decenni fa stiamo facendo delle corse incredibili quindi io sono ottimista sono ottimista anche quando vedo che nel PRRR ci c'è un grossa fascia dell'investimento sull'istruzione legato alla formazione dei docenti perché noi diamo ai docenti in mano i nostri figli dieci milioni di ragazzi tutti i giorni in mano a un milione circa di docenti ottocentocinquantamila docenti che devono capire devono sviluppare queste sensibilità poi avremo una una un'amica che ne parlerà di questo no la formazione docenti è veramente chiave devono sviluppare una sensibilità al al mondo della diversità all'importanza delle materie STEM non perché latino e greco siano da dimenticare o l'italiano sia da dimenticare anzi tutt'altro perché tra l'integrazione tra le culture tra le conoscenze e le competenze che possiamo veramente dare il meglio è la diversità anche nelle materie che si studia che dà il meglio Ma infatti secondo me non dovremmo neanche opporre STEM e materie umanistiche vanno mano a mano e parlavi dell'insegnante infatti ieri nel nostro domanda di ieri dove il tema era la scuola come cura uno dei punti che è emerso è anche il compito che abbiamo affidato all'insegnante come dici tu abbiamo stiamo affidando all'insegnante un duplice compito che istruire e educare e poi in più con l'entrata in vigore da anche della duemila adesso no della delle life skills il compito è ancora più ampio stiamo chiedendo all'insegnante di di aggiungere delle competenze che a oggi non sono quelle richieste storicamente dunque che educare anche a essere insieme educare alla diversity come hai detto educare all'inclusione dunque gli insegnanti hanno bisogno anche di sopporto di formazione hanno bisogno anche di forse far entrare nuove competenze nella scuola per affiancare questi insegnanti maestre che quando poi le fai parlare capisci e trovi delle persone assolutamente molto molto motivate e appassionate del loro mestiere dunque questo è molto interessante ne abbiamo parlato un po' ieri era troppo breve e sicuramente sarà sarà una cosa che noi esploreremo nel futuro nei prossimi webinar quello è allora prima ti ringrazio tantissimo perché ci hai dato una panoramica molto interessante su no in realtà su stemma ma anche stiamo già aprendo al terzo ospite di stasera linda talone stemma ma non solo stemma perché come dicevi tu le ragazze sono un po' più timide hanno una voce un po' più debole sappiamo se non abbiamo forse fatte tutte un po' di coaching nelle aziende che ti insegnano a come porre la voce in un meeting dove sono 95% di maschi dunque queste sono le cose dove dove le che le ragazze devono affrontare questo cambiamento è interessante perché succede nelle nelle classe medie dove forse faccio mea colpa nel nostro webinar di stasera e non so se ho visto se è presente negli ascoltatori ma mi sarebbe più asciutto molto fare intervenire ieri una persona una neuropsicologa che è intervenuta perché sicuramente la trasformazione la trasformazione normale delle ragazze all'età adolescente non gioca in favore delle ragazze al momento proprio della scelta ma intanto vorrei dire ti ringrazio vorrei dare la parola a linda linda talone di valore di che buonasera linda grazie di essere con noi stasera abbiamo già parlato di tante tante cose molto interessante vorrei vorrei con te esplorare un po' di più perché voi come valore di avete ideato un progetto che secondo me sicuramente partecipa altamente a contrastare i stereotipi di genere portando dei role models dunque linda beh forse ti lascio un po' raccontarci il progetto e poi soprattutto sarà interessante di capire cosa 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 vedete quali quali sono i risultati e come proprio andate a toccare qualcosa di sottile che come le ragazze riescono a acquisire un po' più di fiducia in se stesso e riescono a fermarsi di più no nel nelle loro scelte professionali grazie mille caroline sì esatto io lavoro per un progetto di innovazione sociale che si chiama in sparingers in sparingers un progetto con un dna internazionale perché è nato in inghilterra nel duemila e sedici la founder si chiama miram gonzalez durante ed è una avvocatessa e eh in dal duemila e dici a sette questo progetto è stato lanciato e promosso da valore di l'associazione per la quale lavoro e valore di per coloro che appunto non la conoscono è una associazione di imprese eh leader in Italia ormai da più di dieci anni per quanto riguarda sia la eh promozione di una eguaglianza di genere all'interno delle organizzazioni ma anche proprio la promozione di una cultura inclusiva nell'organizzazione aziendale e anche proprio nel paese Italia quindi valore di ha deciso di promuovere questa iniziativa in sparingers proprio per cercare di eh fare leva sulle nuove generazioni per sì che queste siano meno influenzate da pregiudizi e da stereotipi di genere eh il progetto è presente ventotto paesi in Italia abbiamo il patrocinio del MIUR e questo ci consente proprio di entrare nelle scuole durante l'orario curriculare questo è molto importante così che i ragazzi e le ragazze sono soggetti alla nostra iniziativa diciamo senza sceglierlo eh il nostro target di riferimento sono le ragazze e i ragazzi delle scuole le secondarie di primo grado quindi interveniamo sui i cosiddetti eh ragazzi e ragazze della fascia preadolescentale dagli undici ai quattordici anni eh in che modo appunto li influenziamo ad essere meno mh condizionati da pregiudizi di genere proprio attraverso da una parte il role modeling quindi noi invitiamo eh tantissime role model mentori che sono donne e ragazze che provengono da settori anche da professioni diverse che decidono di dedicare un po' del loro tempo per dialogare e parlare direttamente con eh i ragazzi e le ragazze di una scuola secondaria di primo grado le role model sono ovviamente da noi formate e poi durante l'incontro seguono una sorta di nostra metodologia per far sì che l'incontro proprio con la classe avvenga in maniera molto dialogica molto partecipativa molto interattiva eh noi utilizziamo il concetto di role model di prossimità quindi invitiamo sempre una donna una ragazza una mentore appunto che entra in una classe eh nella città o nella provincia eh di di sua provenienza questo è importante perché così il senso di identificazione da parte dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della storia della role model è maggiore eh e proprio oltre a questi incontri faccia che noi abbiamo chiamato faccia faccia con il futuro noi abbiamo anche da quest'anno eh sviluppato una nuova iniziativa che si chiama proprio inspired education che è nata da un dalla volontà e dai feedback degli insegnanti stessi eh perché eh noi eh cosa succede? I ragazzi incontrano una role model e poi gli insegnanti compilano dei feedback form che per noi sono assolutamente importanti per capire se stiamo facendo impatto o no e anche gli stessi studenti compilano una survey digitale a tre settimane dall'incontro con la role model eh per capire appunto se si ricordano l'incontro se l'incontro ha lasciato qualcosa in loro eccetera e eh da questa da questo report eh del dei nostri dalla nostra ricerca di impatto abbiamo visto proprio che i tre quarti dei partecipanti cioè degli studenti parlavano poi dell'incontro no del che hanno fatto con la role model sia nelle scuole quindi con gli insegnanti sia a casa con i genitori quindi gli insegnanti sono tornati da noi dicendoci appunto che eh loro vogliono volevano appunto approfondire questa tematica degli stereotipi di genere dei pregiudizi ma che da una parte loro stessi non avevano mai ricevuto una formazione eh relativamente a tali tematiche quindi relativamente ai pregiudizi e stereotipi e dall'altra anche gli insegnanti non avevano degli strumenti eh concreti per portare questi argomenti nelle classi eh perché comunque questi argomenti stereotipi e pregiudizi sono anche delle tematiche molto sensibili e quindi gli insegnanti stessi non sapevano bene come veicolare queste tematiche a questo target di di ragazzi quindi abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa che si chiama Inspire in Education che è un percorso digitale didattico completamente gratuito a disposizione dei docenti per da una parte approfondire loro stessi una formazione e dall'altra parte portare dei moduli didattici nelle classi eh su tre tematiche eh i pregiudizi di stereotipi l'intelligenza emotiva che assolutamente è un argomento fondamentale da affrontare soprattutto in questo target di età e i falsi miti delle materie STEM perché eh noi ci interessa sempre abbattere gli stereotipi e pregiudizi e soprattutto relativamente all'ambito STEM e quindi eh questo percorso è assolutamente a disposizione e anche una la metodologia che abbiamo utilizzato è una metodologia molto eh basata su delle discussioni in classe, su degli esercizi pratici, su delle attività laboratoriali perché eh pensiamo proprio che sia fondamentale per l'apprendimento dei ragazzi che eh ci sia un trasporto da un piano teorico proprio ad uno pratico e molto partecipativo che consente di trasformare anche le riflessioni di questi ragazzi in consapevolezza. No beh eh guarda eh è molto interessante e e mi sono felice di di avervi eh con noi stasera perché ci date un'altra eh fotografia no di quello che accade abbiamo visto con Marie Madeleine dei progetti sui più piccoli dove le le ragazze si sentivano quasi quasi alla pari con i maschi non emergeva così fortemente. Invece io guardando anche i vari documenti che mi hai passato le varie slide eh sono emersi delle cose molto interessanti in particolare due due punti che sono le le attitudini percepite e dalla famiglia dei genitori e anche le differenze tra maschi e femmine dunque uno in particolare mi ha fatto riflettere quando ci chiede quando chiedevate a a ai ragazzi di valutare tra di loro no come vedono l'altro genere spesso se le ti senti più sicuro o vedi che l'altro le le femmine si sentono più insicure spesso i ragazzi vedevano che le le ragazze dice le ragazze dicevano no siamo pari invece i maschi dicevano no sono più deboli dunque emerge c'era già una visione diversa di se stesso ma anche dell'altro no che emergeva dal vostro lavoro e un'altra cosa c'era anche una lettura diversa dei genitori al secondo che c'era un ragazzo o una ragazza dunque questo ci porta comunque a capire che le etichette le stereotipi vanno sono veicolati in vari modi esatto sì innanzitutto è verissimo già a questa età l'età della preadolescenza in maniera più più pesante diciamo questi stereotipi iniziano a cristallizzarsi e sono inconsapevoli quindi iniziano a condizionare le libertà e le scelte dei ragazzi e delle ragazze senza che queste se ne accorgano e sfortunatamente uno di questi unconscious bias è proprio relativo alle tematiche STEM e alla matematica di cui parlavamo prima eh già dall'età degli undici quattordici anni eh cala l'interesse nei confronti della matematica mentre nell'età degli elementari in base a una ricerca appunto che sto menzionando la la metà delle ragazze dichiarava la matematica una materia divertente piacevole già nelle medie questa percentuale dal cinquanta per cento scende al trentun per cento proprio perché in questa età erroneamente inizia la matematica ad associarsi come una materia più da maschio o verso la quale i maschi sono più portati e come menzionavi tu Caroline esattamente nella eh nostra ricerca che abbiamo fatto noi abbiamo portato avanti una ricerca con Ipsos che ehm per chi non lo conosce appunto è un'azienda che si occupa di ricerca di mercato un'azienda internazionale noi abbiamo fatto proprio una ricerca sul nostro target di riferimento cioè i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo grado e abbiamo fatto una nel duemiladiciotto e una nel duemilaventidue eh quella del duemilaventidue non è stata ancora pubblicata però ahimè eh i dati soprattutto su queste su queste cose che vi racconterò non sono cambiati eh che cosa abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze di questa età? Allora da una parte abbiamo chiesto se ehm avessero dei modelli di riferimento e è emerso che il cinquantasei per cento e non so sempre era su più o meno mille ragazzi distribuiti in maniera uniforme in tutta Italia. Il sessanta per cento ammette eh di avere un modello da seguire nella scelta di che cosa fare da grande quindi già questo è un dato molto significativo cioè a quest'età hanno un modello. Qual è questo modello? È emerso in primis il papà e in secondo la mamma poi altri parenti e infine i personaggi dello sport e dello spettacolo comunque coloro che sono eh presenti nei media, nei social media e e nello sport. Poi nello specifico abbiamo analizzato e abbiamo visto che questi modelli di riferimento cambiavano in base al genere cioè i ragazzi maschi avevano appunto come modello di riferimento prevalente il papà eh e le ragazze invece avevano come modello di riferimento la mamma. Quindi vedete come già i modelli si dividono in base al genere e poi abbiamo deciso di fare delle domande, di sondare se ci fossero una percezione dell'eguaglianza. Cioè che cosa abbiamo domandato? Abbiamo fatto delle stesse domande sia ai genitori che ai figli. Una di queste domande era proprio relativa a chi è più bravo secondo te in matematica e chi è più bravo secondo te in informatica o chi è più bravo secondo te in storia e eh nelle materie appunto più umanistiche. I genitori alla domanda chi è più bravo secondo te in matematica rispondono che secondo loro sono più bravi maschi cioè per il quaranta per cento rispondono i maschi e soltanto il quindici per cento di questi genitori risponde che sono le ragazze. Quindi capite che non c'è assolutamente una percezione di eguaglianza perché altrimenti avrebbero dovuto rispondere e non fa differenza. E questo è abbastanza drammatico perché poi abbiamo fatto la stessa domanda ai figli ed i sessi figli dichiarano che secondo loro per il trentacinque per cento sono più bravi maschi in matematica rispetto alle ragazze. E via via per le altre materie soprattutto sull'informatica eh hanno dichiarato addirittura oltre il cinquantacinque per cento che sono più portati maschi. Mentre invece nelle materie umanistiche assolutamente sia i genitori dichiarano sono più portate le ragazze per delle numeri che ehm per delle dei numeri assolutamente preoccupanti perché ad esempio sulle lingue dichiarano il cinquantasei per cento dei ragazze solo nove per cento i ragazzi. E questo eh hanno hanno risposto nella medesima maniera i figli. Quindi questo ci ha fatto comprendere come gli stereotipi dei genitori si sono in qualche modo riflessi riflettono poi sugli stereotipi dei figli. E questo ehm è ovviamente poi una risposta che noi abbiamo capito eh percependo che ovviamente i genitori i figli dichiarano che i genitori sono i loro modelli di ruolo principali automaticamente poi eh ripetono e ripercorrono gli stessi stereotipi dei genitori. E una un'altra domanda poi ehm non continuo su questo un'altra domanda abbiamo chiesto chi secondo te ha più possibilità di fare carriera e su questo il cinquantacinque per cento dei genitori dichiara i ragazzi maschi e la stessa risposta l'hanno data appunto i figli. Alla domanda chi secondo te si occupa delle questioni familiari o comunque della famiglia eccetera hanno risposto i genitori il settantaquattro per cento eh le ragazze e solo il sei per cento i ragazzi. Quindi eh e questa stessa risposta l'hanno data i figli. Quindi capiamo come ehm questi stereotipi sono assolutamente nascono dalla famiglia e in qualche modo si riflettono poi senza neanche che se ne accorrono sui figli che automaticamente poi anche hanno delle ambizioni no? Che eh vengono in qualche modo ehm che derivano poi da questi condizionamenti. Infatti in ambito lavorativo poi la maggior parte dei ragazzi per il trentun per cento a quest'età ambisce a professioni tecniche scientifiche mentre invece le ragazze per un trentasette per cento ambiscono a professioni umanistiche. E eh come abbiamo già ribadito prima ovviamente essendo che i settori STEM offrono anche maggiori sbocchi lavorativi e anche in qualche modo eh sono degli ambienti che eh non sono saturi dal punto di vista di opportunità lavorative una mancata presenza di donne o di ragazze all'interno di questi settori non peraltro che aumentare diciamo la la gender equality del futuro. Eh no guarda Linda grazie davvero perché poi soprattutto grazie e complimenti per la tua eh no per tutti questi dati che ci hai dato. E allora ci fa capire vorrei passare anche adesso all'aspetto sociale come la società può perché vediamo che questi modelli non sono sedimentati sui piccoli invece all'età dove voi eh intervenite che è l'età delle medie no principalmente eh invece sono tutti lì dunque la trasformazione è avvenuta tra l'età tenero e la più o meno diciamo l'adolescenza dove ognuno si si diventa in un ruolo che spesso è lo specchio della famiglia dunque sicuramente finché che le donne sono sono quasi solo una donna su due in Italia che lavorano sicuramente ci sarà tendenza a fare che il modello si riproduca nel futuro. Una cosa interessante che ho trovato che vorrei condividere con voi e che fa capire l'importanza dei role model se tu vedi la parte perché vorrei riflettere anche alla rovescia perché noi vogliamo portare role model di donne diversi nella scuola nel vostro progetto ma portiamo forse anche role model di maschi diversi no e secondo me sicuramente il cambiamento non può avere avere realizzarsi senza la parte l'altra metà della popolazione dunque come anche i maschi devono cambiare lo sguardo che portano su eh le femmine come i messaggi dove devono essere veicolati anche da parte dei maschi che possono forse prendere ruoli più da donna e ne parleremo forse anche con Diana De Marchi come forse il congedo di paternità potrebbe essere anche un strumento tutto invertire non solo il role model che proponiamo delle delle donne ma anche quelli dei maschi e ti volevo dire solo che vorrei condividere con tutti voi nella scuola dell'infanzia e vedo che abbiamo forse marina marina l'oricela una delle maestre che 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 ci conosce e insegnante no di una delle scuole con quale abbiamo operato eh gli educatori uomini non sono neanche il due per cente sono in uno virgola cinque per cente nella scuola primaria eh insegnanti uomini sono del cinque per cente e nelle scuole medie l'insegnante uomini sono del ventotto per cente circa dunque anche lì il modello il messaggio che proponiamo ai maschi e femmine è già impostato anche parte già dalla scuola tu mi avevi detto quando ci siamo parlate all'inizio che sembrerebbe che solo che la scuola incide solo sul venti per cento del messaggio eh sulla costruzione dei modelli eh sui ragazzi dunque è solo il venti per cento ma è anche il venti per cento in termine in termine di modelli dunque sicuramente la scuola già dalla scuola potrebbe partire dei cambiamenti assolutamente sì eh in base appunto a questa ricerca anche che abbiamo fatto sempre con Ipsos che influenza le scienze oltre ai genitori eccetera la scuola appunto ha una sorta di venti per cento quindi da un lato è un è un è un numero basso ma dall'altro se vogliamo appunto vedere la diciamo il bicchiere mezzo pieno ha solo da migliorare ecco c'è un c'è un margine di miglioramento incredibile e con le attività sia il progetto che stiamo facendo noi e degli degli ma anche con altre attività interessanti che i professori possono portare durante le ore di educazione civica che ne hanno moltissime poi durante soprattutto le scuole secondarie di primo grado e durante l'ora di orientamento si può iniziare a fare un lavoro e proprio a educare diciamo gli studenti ad una delle scelte più libera secondo i quali non ci sono delle professioni non considerate da maschio e delle professioni considerate da femmina i nostri sempre da queste nostre ricerche emerge come la maggior parte dei ragazzi più per già in questa età dichiarano che secondo loro grazie all'incontro con la role model hanno capito che non esistono lavori da maschio lavori da femmina questo è assolutamente preoccupante che ancora ci siano questi questi queste considerazioni nel duemila ventidue quindi è assolutamente importante cercare di portare sempre più strumenti per cercare di ampliare proprio il la visione di immagine di modelli nella scuola linda grazie davvero penso che sia assolutamente necessario questo lavoro e vorrei allora adesso abbiamo abbiamo scambiato anche le problematiche o anche delle risposte vorrei coinvolgere diana diana de marchi che finalmente è riuscita a collegarsi con noi diana grazie mille da anni ti occupi di di pari opportunità da anni ti occupi di diritti delle donne ehm se consigliera comunale sei stata e sei presidente della commission pari opportunità e diritti civili dunque a te farei delle domande più più società nel senso più società non tanto perché ne abbiamo parlato fino adesso ma come l'istituzione come una vera politica di welfare può eh aiutare a contrastare questa disparità di genere dunque ehm penso che sia fondamentale e riprendo l'esempio francese perché ci sono stati queste due due legge che sono state nel duemila e diciotto nel duemila e venti che hanno sono intervenuto sia sul piano lavorativo ma anche sul piano ehm diciamo più società la con eh la 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 protezione eh aumentata di diritti delle donne eh sui comportamenti su gli abbi abusi sessuali eccetera eccetera dunque c'è stata una volontà dal mh dallo dallo stato di eh influire di agire eh fortemente di per contrastare questo fenomeno ci vuoi raccontare un po' qualcosa anche a Milano che di che hai lo no hai la visione molto come dire giusta per dirci un po' che cosa accade nella città e nella regione? Certo. Beh intanto grazie vi ho ascoltato con attenzione perché poi sono proprio le tematiche di cui mi occupo ed è importante condividere anche eh riflessione e buone pratiche per lavorare meglio eh insieme quindi è stato davvero molto utile eh e poi ho ritrovato anche delle amiche che non vedevo da tanto tempo quindi è sempre bello capire che andiamo avanti sullo stesso percorso ma con strumenti più articolati e quindi bello grazie un buon modo di eh passare questa giornata dell'otto marzo che è una giornata difficile in questa fase di guerra ma insomma eh però riguarda i nostri diritti ehm ma io intanto una riflessione che mi è venuta istintiva perché anche noi abbiamo approvato la legge sulla parità salariale l'ha approvato la legge sulle molestie e quindi nel duemila e ventuno io trovo che sia e ci riflettevo proprio adesso perché anche tu dicevi in Francia l'hanno fatto prima ma io trovo che sia eh non so eh inaccettabile non mi viene un altro oggettivo il fatto che bisogna approvare una legge per la parità salariale che dice che vanno pagate nello stesso modo uomini e donne che hanno le stesse competenze cioè è è è drammatico adesso noi siamo contenti che sia passata questa legge sappiamo che è necessaria perché non succedeva però il contenuto della legge già ci fa capire eh qual è eh la nostra società e come è costruita ancora con un sistema insomma patriarcale di sopraffazione e quindi di non rispetto eh non solo dei diritti delle donne che devono essere gli stessi degli uomini ma neanche delle competenze quindi partiamo già da una base complicata ecco per poi riuscire a a giustamente a motivare come facciamo tutti le nostre eh bambine e ragazze a sentirsi liberi di fare le scelte che vogliono perché è giusto che possano realizzare i propri sogni e e mi è piaciuto molto eh il fatto di dire che il ministero dovrebbe chiamarsi ministero dell'educazione noi per fortuna abbiamo un assessorato all'educazione quindi siamo anche più autorizzati dalle parole che contano tanto a lavorare perché emergano queste competenze però effettivamente quello è il tema noi dobbiamo facilitare eh la capacità delle bambine e dei bambini di riconoscere i propri talenti e poi aiutarli a portarli avanti eh liberi dalle gabbie degli stereotipi ecco questo è uno dei lavori e delle attività delle azioni che facciamo anche in consiglio comunale l'abbiamo fatto con questo eh libro gioco che era le donne avventurose che hanno fatto grande Milano che abbiamo distribuito in tutte le scuole primarie della nostra città gratuitamente eh attraverso le biblioteche dove abbiamo fatto un corso di formazione a proposito di formazione perché serve comunque capire il senso di quel lavoro che era appunto liberare i talenti liberare bambine e bambine da stereotipi e e gabbie di ruoli e e che poi appunto partiamo dalle bambine partiamo dalle figure di donne perché sono meno conosciute e e spesso sono state anche nascoste quindi invisibili pur avendo portato innovazioni straordinarie nella nostra città qui parliamo di donne di Milano ma che poi sono innovazioni che hanno cambiato la cultura l'economia la scienza gli ambiti diversi nei quali hanno operato eh in tutto il paese e io direi anche in tutto il mondo perché poi il contributo delle donne è sempre stato nascosto ma eh c'è c'è stato e continua ad esserci e quindi partiamo dalle donne per quello ma in realtà lavorando sul contrasto agli stereotipi e pregiudizi eh liberiamo maschi e femmine e questo è il tema e perché lo facciamo lo facciamo alle primarie perché ehm drammaticamente le scelte eh che poi orientano i percorsi mh di studio di lavoro eh dei bambini e delle bambine cominciano a delinearsi già verso i sette anni secondo appunto questa ricerca di tre o quattro anni fa non mi ricordo di Carmelle Cardi che è una docente delle della Bicocca che si è tanto occupato di occupata di questo ma perché iniziano lì perché condizioni fino a quell'età c'è una libertà non c'è neanche il riconoscimento di questa differenza e poi i condizionamenti sociali iniziano invece a farti pensare che tu essendo bambina sei più incline a scegliere materie umanistiche filosofiche a occuparti di questioni di cura c'è tutto quello che purtroppo conosciamo che è molto migliorato nelle giovani generazioni però eh ancora resiste questa è la realtà non solo resiste soprattutto dopo il percorso eh difficile anche di superamento che ancora non è concluso della pandemia del post pandemia è riemerso con forza perché sappiamo bene che quando ci sono delle crisi economiche gli stereotipi sono delle ancore di salvezza perché sai che quella è una cosa che c'è e quindi ti dà una sicurezza e quindi è facile anche tornare indietro quindi è di nuovo un passo avanti che dobbiamo fare eh avendone fatto qualcuno indietro e quindi ehm per questo che me ne occupo da tanto di questi temi perché purtroppo mi preoccupassero cioè è proprio che poi in modi diversi perché appunto adesso si è inserita la legge sulla parità si è inserita la legge sulle moleste quindi c'è sempre un passo avanti eh o più passi avanti importanti però quei passi avanti li devi far vivere nel tessuto sociale e io credo che la cosa più importante in comune oltre appunto a questo progetto che è stato davvero interessante anche per quello che ha riportato questo delle donne avventurose perché poi ehm non solo abbiamo liberato la capacità delle bambine e dei bambini di riconoscersi e riconoscere quindi la loro possibilità di essere libere ma poi le storie si sono declinate in molti modi e ci hanno raccontato eh a seconda dei progetti che le insegnanti eh facevano in classe ma è stato molto bello vedere i racconti delle avventure delle loro madri perché poi non solo di madri che arrivano da altri paesi quindi l'avventura è stata il lungo viaggio la differenza culturale la fatica di inserirsi in un contesto in una società diversa ma anche di quelle che sono nate qua che comunque poi hanno avuto modo di raccontare le loro storie che vedono sempre dei percorsi accidentati eh perché questa è la purtroppo la quotidianità delle donne anche delle donne che appunto qui vivono qui nascono crescono studiano eh però poi nella realizzazione del proprio sogno eh hanno degli inciampi degli ostacoli dei momenti in cui faticano in quanto donne cioè il tema è che la fatica la facciamo tutti ma è una fatica delle donne di di condivisione no no ma è interessante perché mi chiedo anche dopo aver lavorato anche per preparare questo incontro di oggi eh ascoltandovi eh leggendo le cose e la la difficoltà sicuramente sono tutti i ruoli che la donna indossa e che e finché che le indossa a tutti lei capo non capo famiglia a livello forse economico ma è comunque gestione organizzazione eh il lavoro poi leggevo anche quel il fatto che con l'invecchiamento anche della popolazione spesso occuparsi dei genitori no spesso ricade sulle spalle delle donne e tu dicevi che eh forse sei frustrata arrabbiata che le leggi no così sono una forza turma l'hai detto anche eh se e sono necessarie come vedevo la che c'è la legge di bilancio duemila e ventidue che conferma la misura che il numero di giornate dei maschi di no papà eh sono dei di di dieci giorni dunque dieci giorni ma che ho ho letto dunque non è una paragone Francia Italia ma anche lì stanno mettendo aumentando i giorni da quattordici a ventotto di qual è un minimo obbligatorio di sette giorni dunque dobbiamo obbligare i maschi a prendere un congendo di di paternità dunque eh sono delle forzature che sono sembrano assurde ma eh sono necessarie finché che non sono cambiati e equilibrate un po' i ruoli fare in modo che la donna non deve assumere tutti questi ruoli eh o comunque li assumi insieme a un'altra persona cioè il tema è che li puoi assumere lo stesso ma sai che c'è qualcun altro che li può assumere gli assumi a cinquanta cinque a te ci va benissimo eh scusami li assumi anche eh tutti li assumi però devi avere comunque la possibilità di scegliere quando e come assumerli cioè e e questo dipende sicuramente dalla persona che hai vicino ma dipende anche dalla rete di servizi che la città ti offre su quello dell'amministrazione assolutamente volevo che è quello perché quando ne abbiamo parlato a me tu mi hai detto la la regola di quindici minuti io dicevo la regola di quindici minuti no spiegami ma fa molto senso perché tu puoi assumere varie responsabilità se lo 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 stato l'istituzione eh il comune ti offrano i mezzi per assumerli dunque esatto è proprio questo no infatti questo questa trasformazione verso la quale stiamo andando della città a quindici minuti a quindici minuti e questo vuole dire cioè proprio avere attorno tutti quei servizi e quelle facilitazioni che ti consentono di eh non fare quelli brismi continui come invece fanno tutte le donne anche a Milano eh nonostante appunto Milano poi offra tante opportunità lavorative condizioni diverse anche le scuole dell'infanzia sono davvero un servizio eh che è un fiore all'occhiello proprio rispetto alla nostra regione perché a Milano c'è un servizio molto efficiente però comunque non è è efficiente ma non è sufficiente ancora non ha ancora per esempio quella capacità di flessibilità che invece è necessaria ai percorsi anche lavorativi che sono nuovi eh delle giovani donne e che non hanno magari eh appunto quella rigidità di orario quella scadenza così eh schematica bisogna anche capire che è cambiato il mondo del lavoro e quindi i servizi devono diventare flessibili per essere poi utili alle donne e agli uomini che hanno lavori e opportunità diverse di professioni quindi ehm questo può essere favorito se tu hai nelle vicinanze appunto tutta questa rete che non è solo ma è principalmente la rete dei servizi però è anche la rete di aggregazione anche la rete sociale che diventa più eh aggregata perché è più vicina e quindi anche i bisogni di ciascuno e e ripeto uomini e donne perché quello che sarebbe il mio sogno eh è che la cura diventasse proprio l'elemento mh trainante delle azioni amministrative della nostra città e cosa significa la cura messa al centro? significa che tu ascolti i bisogni di tutte e di tutti e trovi delle risposte ma non significa che la cura è la cura degli uomini o delle donne significa che la cura è il punto di partenza e anche l'obiettivo no? Quindi che tutti trovino una risposta di cura ai loro bisogni e possano però esprimere quei bisogni ma non è detto che poi siano uomini o donne a declinare quella cura è la cura dei cittadini e delle cittadine di chi vive e abita questa città e allora così sei più attento così inserisci anche il bilancio di genere per esempio perché nel bilancio di genere che noi abbiamo approvato l'anno scorso di fatto in ogni ehm assessorato e quindi tutte le azioni che facciamo che siano eh l'urbanistica che siano la viabilità che siano la casa i trasporti c'è sempre una declinazione che eh misura le ricadute di quelle azioni su uomini e donne partiamo da qua poi in realtà parliamo di tutte le minoranze perché eh partiamo dalle donne perché insomma almeno cominciamo lì ma poi significa includere tutti quelli che non sono il modello eh maschile bianco etero che insomma è il modello di riferimento di tutte le nostre ehm di tutte le nostre azioni precedenti e soprattutto della costruzione delle nostre città perché quello è stato riferimento allora così cambia la città cambia se tu hai uno sguardo che è sia di donne che di uomini per tutto quello che poi in nuovi cambi nell'attività amministrativa e e quindi nel nell'intervento anche istituzionale rispetto appunto ai trasporti alle case all'urbanistica che è molto difficile perché significa proprio eh ripensare la città tutta e quindi è complicato ma non è impossibile e e bisogna partire ecco io credo che questo sia eh il cambiamento più grande che noi dobbiamo riuscire a realizzare proprio un monitoraggio di quello che c'è la necessità di quello che invece possiamo modificare con questo sguardo che ascolta uomini e donne e e ripartire da lì e per questo servono più donne nelle amministrazioni anche lì abbiamo avuto bisogno e per fortuna è rispettato di un equilibrio nella nella giunta quindi nel nella nella distribuzione delle cariche assessorili ed è fondamentale e ma c'è voluta una legge mh cioè a me quello che io sono contenta perché le leggi servono servono a cambiare e però ehm è impressionante come anche le leggi arrivino quando quella trasformazione sociale parlando di queste cose c'è già stata cioè le donne hanno già questi ruoli hanno già la capacità di raggiungere eh professioni di di svolgere professioni che una volta erano solo eh possibili per gli uomini quindi c'è già stato un cambiamento eppure ancora dobbiamo chiedere che ci siano anche le donne che guadagnano la stessa cifra che ci siano donne anche nelle amministrazioni in modo da avere cioè ehm abbiamo sempre bisogno di un obbligo ehm e io penso che senza quell'obbligo torneremo indietro oltre a tu. Esatto è quello che ti volevo dire io di un certo modo sono contenta che ci siamo. Ma certo anch'io. Perché è è fragile no? Come mi dici tu eh era interessante anche eh vi invito a guardare il TED di Chiara Borberi di duemila e quindici quando tu chiedi all'assistenza ma dammi il nome di un scrittore famoso maschio ti arriva subito un scritto famoso donna ti prende qualche minuti ci devi pensare un pittore una pittrice eccetera 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 dunque è fragile non le donne ci sono sono sempre state sono state invisibile adesso sono un po' più invisibile ma ancora il l'equilibrio è è ancora fragile dunque le le sicuramente le 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 gi giocano da 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 assicurazione di 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 sicurezza e e io sono guarda intanto ti ringrazio di aver condiviso un sogno con noi stasera e vedo un sacco di persone presenti mi fa piacere sentirle se avete delle domande vorrei lasciare un po' di tempo e e volevo solo dire una cosa è che questa cosa del welfare dello Stato sicuramente è fondamentale per fare che giovani donne eh ne abbiamo qua stasera linda costanza che sono qui che ho visto che queste donne possono fare avere figli fare fare una famiglia e sapere che c'è una rete sociale che le aiuta che ce li sono i posti nei nidi che ci sono no dei dei sportelli di informazione che accessibile in come dici tu in quindici minuti senza che deve sconvolgere la sua vita personale e professionale che riesce a portare avanti tutto questo il progetto personale dunque sicuramente è importantissimo poter portare questo eh tu hai accennato solo un secondo e alla guerra non ho voluto metterlo al centro perché sicuramente la guerra oggi ci sono tutti e e anche lì vorrei dirti quando vedi il tavolo delle negoziazioni dove c'è una una giacca rossa e che la vediamo perché è lì sicuramente mancano le figure femminile anche per portare l'equilibrio e faccio un altro mea culpa volevo avrei voluto un neuropsicologa psichiatra stasera avrei voluto avere anche un maschio nel nostro dibattito la prossima volta lo porteremo perché è importante sentire la voce sono come dicevo sono protagonista 50 per cento del cambiamento sì posso dirti aggiungo solo una cosa che oltre a non esserci le donne nelle trattative che è drammatico c'era solo una donna vicino a Putin che infatti aveva un'aria anche molto critica però era l'unica che abbiamo visto io credo che questo non solo sia grave perché mancano perché manca il loro pensiero ma io penso che anche la forza che adesso bisogna esprimere e quindi il modo in cui è stata affrontata questa vicenda a partire da dall'attacco russo è proprio una forza che deve trovare un genere di forza diverso credo che anche questo ci aiuterebbe perché è vero che noi non vogliamo tante volte parlare solo di cure di relazioni perché appunto non è che tutte siamo così capaci perché siamo donne però è anche vero che è un altro approccio quello che noi abbiamo anche quando facciamo professioni che sono scientifiche economiche però ci dimostrano proprio le esperienze le documentazioni che il modo di svolgere quel ruolo è comunque diverso ed è più attento a una partecipazione condivisa a una relazione con chi appunto può collaborare a seguire i progetti insieme a noi e quindi anche questa cura delle relazioni anche nel modo di svolgere le nostre professioni qualunque se siano è un approccio che io credo vada valorizzato e che servirebbe per avere appunto un genere di forza diversa anche nelle trattative diplomatiche e e manca manca fortemente sicuramente una risorsa di quale una risorsa sprecata perché non viene utilizzata è un peccato non non sfruttarla esatto esatto beh intanto grazie grazie non so se linda chiara avete voglia di intervenire e poi chi ha in qualsiasi altre persone nel nella nella nei presenti stasera io volevo dire solo una cosa se posso giusto per perché poi è una parola che è uscita adesso di nuovo che ho sentito anche prima e che trovo penso che sia una di quelle che io personalmente mi riporterà di più di questa conversazione che è spreco nel senso che tutto quello che ci siamo dette stasera ci dice che lo spreco che si sta generando adesso come ora forse un po di meno ma comunque tutte le volte che questi bias questi unconscious bias pregiudizi eccetera entrano in gioco è enorme e un'altra cosa interessante che veniva fuori anche dal discorso di linda che ringrazio perché ha dato un sacco di stimoli molto interessante rispetto al lavoro che fate proprio tanto nella scuola quanto forse anche nelle organizzazioni ci sono delle fasi c'è un momento insomma da quello che ho colto che avete raccontato c'è un momento iniziale dove magari nei primi anni delle scuole a volte anche in alcune organizzazioni nei livelli più bassi bene o male si creano delle condizioni di diciamo quasi parità insomma diciamo se guardiamo forse alcune organizzazioni a livello di analyst bene o male ci saranno non so un 45 per cento di donne rispetto a uomini poi passando su passano dicendo facendo un balzo a top management comunque si level scrolla a 4 5 per cento nei casi peggiori chiaramente succede qualcosa nel mezzo e diciamo ci sono si perdono lì in senso proprio in termini di spreco succede qualcosa lì in mezzo per cui piano piano in una serie di passaggi tutte queste tutto questo potenziale di cui parlavamo si perde per strada ed è enorme e mi aggancio un po' al progetto di cui parlava Linda dell'importanza in questo caso dei role models per esempio quindi vuol dire mettere laggiù dove ci sono quattro persone invece che cinquanta rinforzare quella quel quel punto di arrivo renderlo sempre più visibile perché altrimenti in quel passaggio di mezzo uno non riesce neanche a vedere quello che può essere poi viene insomma sopraffatto da tutta una serie di di nuovi stereotipi scelte che in realtà o questioni che si pongono senza neanche in realtà a priori diciamo così ehm e quindi questo trovo che sia insomma abbastanza eh importante come elemento da portare via e giusto per riagganciare un velocemente il tema della scuola forse se proprio uno si deve domandare quale dovrebbe essere il mandato oggi della scuola io lo rimanderei diciamo io personalmente lo rimanderei alla possibilità di assicurare il come dire il il corretto sviluppo di tutti questi talenti di tutto questo potenziale eh diciamo garantendo che nulla venga perso per strada questo come posso dire una cosa perché sono d'accordissimo Costanza grazie tra l'altro sono anche insegnante nella vita vera quindi ehm è proprio importante bisogna essere preparati a farlo nel senso che la formazione nostra non non prevede quell'attenzione quella consapevolezza che invece ehm a volte anche con delle parole io poi do tanta importanza alle parole ehm perché credo che appunto parta da lì anche il pensiero che poi è la visione di quello che tu vuoi realizzare ma ehm emarginiamo escludiamo tante volte bambine da percorsi che invece le attraggono ed è impressionante come questo succeda io quando adesso anche portando questo progetto del libro delle donne avventurose ma ma poi anche quando faccio gli incontri insomma tante volte ci sono insegnanti che dicono eh sì in effetti non io non mi rendo conto ma mi sembra che le bambine eh uso quella frase ah guarda è bravissima in italiano poi è anche brava in matematica ma come se fosse qualche cosa che è meno di valore no? E quindi è inutile ehm aiutarlo a sostenerla in quella strada perché tanto quell'altra è più adatta ma è proprio perché ce l'abbiamo dentro perché la cultura nostra è fatta ancora così è ancora drammaticamente piena di stereotipi che sono radicati e che vanno sradicati tutti i giorni e per questo io sono anche appassionata di questa attività perché mi rendo conto che che è necessaria e che ehm sono 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 d'accordo e mi mi leggo a quello che dici in termini appunto eh è venuto fuori anche questo aspetto così di questa cioè rispetto al cambiamento lo stereotipo sembra uno è sicuramente uno dei muri principali da abbattere è una è un elemento diciamo radicato particolarmente radicato che però ehm diciamo forse mh adesso tecnicamente non saprei spiegarla questa cosa però lo associerei più ad una serie come fosse una scorciatoia mentale per gestire alcune problematiche quindi è una semplificazione del problema in questo caso forse bisognerebbe contare o stimolare rispetto a ragionare in modo un po' più complesso su certi temi ed evitare che si vada per diciamo per di default verso delle opzioni che sono lì così preimpostate eh a priori certo però se le scuola a parte immagini ancora imbarazzanti che troviamo che non corrispondono più neanche alla vita dei nostri ragazzi e dei nostri ragazzi cioè il papà che io insegno tedesco i libri di lingua ancora ogni tanto mi riproducono l'immagine che sta seduto legge il giornale e la mamma che lava i piatti non esiste neanche nelle famiglie che guida la macchina e la mamma che cucina non c'è più neanche cioè i ragazzi nemmeno si riconoscono quindi è proprio distante anni luce ma eh anche per quel che riguarda la letteratura per esempio le donne o sono in un capitolo a parte dedicata a loro e quindi già questa è una cosa incomprensibile oppure addirittura c'è un fascicoletto allegato perché se l'editore si era dimenticato di parlare delle autrici donne di quel periodo allora ha fatto un fascicolo allegato quindi è proprio ehm escludere la rappresentazione di eh appunto donne che hanno scritto hanno pensato e anche questo non aiuta le ragazze quindi la formazione degli insegnanti ma anche i testi che usano e anche l'ambiente che frequenta cioè davvero è è tutto il contesto che deve eh cambiare culturalmente l'approccio e quindi per quello dico un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme perché ci sono sempre degli angoli che ti dimentichi che poi ti riportano eh indietro eh quindi è è per quello la toponomastica le statue ehm cioè sapere che anche le donne hanno fatto hanno potuto fare hanno saputo fare eh azioni importanti e che quindi possono continuare a farle ma se tu non le leggi mai non le trovi mai e ehm puoi anche pensare che non ci sono perché non sono state capaci insomma ma forse proprio come come dite voi eh occorre scusate ma in riverbero perché sono con caro Dean occorre cambiare lo sguardo inserire uno sguardo più femminile all'interno dei processi e il caso della guerra è emblematico nel senso che rispetto anche a quello che voi avete detto questa sera sembra quasi che futuro e innovazione siano donne e giovani perché io ci metto anche questi poveri giovani che sono costretti a difendere la patria l'Ucraina o a invaderla perché anche questi poveri ragazzi maschi che sono stati vittime no di un disegno che non è disegnato dalle donne perché le donne forse è questo un estereotipo ma perché sono possono essere anche madri hanno una vocazione al futuro alla vita del futuro e a disegnare a immaginare il mondo nel futuro mi sembra che poi ehm come dire chi è ancorato al passato sia più uno sguardo anzi maschile che voglia mantenere comunque quello che la storia la costruzione ehm ha come dire eh ha portato fino ad ora ma che non ha nessuna capacità voglia forza passione ad immaginare un futuro cioè anche pensando al mito greco ehm le figure generatrici non so se mi sentite più meglio sono figure femminili nel senso coloro che generano e costruiscono futuro vita ehm quindi ehm è davvero una sfida grossissima da fare tutti insieme ma da fare anche soprattutto con i giovani bambini e bambine ragazze e ragazze perché hm io sono hm molto poco fiduciosa che invece gli uomini adulti di una certa generazione abbiano questa volontà e questa capacità anche competenza tutto qua va benissimo Pronto? No ci sentite? Ah ok eh no io penso che è un punto molto interessante che ha fatto Mathilde come in realtà come innovazione e cambiamento passa anche soprattutto dal cambiamento del loro e della posizione delle donne nella società dunque credo che siamo consapevoli tutti credo che ognuno e vorrei ringraziarvi tanto ehm Linda Chiara e Diana a Marie Madeleine che è che ha dovuto andarsene ma perché ci avete dato dei prospettivi di pensieri anche su un sguardo sul futuro i cambiamenti sono possibili le competenze delle ragazze e delle giovani donne ehm nessuno le mette in discussione e eh lo sguardo che porta la società e lo sguardo che porta la donna su se stessa eh lo sguardo che porta il maschio sulla donna che va cambiato che va accompagnato va fatto insieme sicuramente eh perché da soli non non da sole non vinceremo dunque dobbiamo portare dalla nostra parte eh i maschi e penso che sicuramente ehm le giovani le 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 generazioni più giovani sono molto più pronte a accogliere questo cambiamento dunque se qualcuno ancora voglia di dire qualcosa lasciamo i micro aperti se no eh beh vi ringrazio davvero tantissimo eh vi lascio domani sarà la terza giornata del nostro webinar parleremo di futuro di di territorio parleremo di di la scuola anche come luogo fisico dunque andremo ancora oltre a quello che abbiamo già un po sviscerato in queste due sere sere di ieri e di stasera sono molto felice di aver potuto passare questa giornata delle donne insieme a voi e sono sicura che saremo tutte i protagonisti del cambiamento. Grazie davvero. Grazie. Grazie mille. Grazie. Buona serata. Arrivederci. Ciao. Grazie Antonella, grazie a Marina che ho visto, grazie a Giorgio, grazie a tutti voi che ci seguite.